Una vera e propria strage, le vittime innocenti della barbarie criminale della guerra di Camorra a Napoli aumentano ogni giorno. L'ultimo episodio è avvenuto il 16 ottobre quando a finire sotto i colpi dei killer fu Pasquale Romano colpevole solo di trovarsi in un'auto del tutto simile a quella del vero bersaglio dei criminali. Per dire mai più sangue per sbaglio nelle nostre strade si è tenuta una marcia anti-Camorra in ricordo delle vittime innocenti, in particolare nella zona in cui l'11 novembre del 1989 vennero uccise per errore quattro persone. Il corteo è partito da Via Le Margherita ad Angola con Via Argine, proseguendo per le vie del quartiere Ponticelli e concludendosi in piazza Egizio San Domenico, luogo della strage dove si è tenuto un dibattito con politici, associazioni, scuole e parrocchie promosso dall'Associazione Terra di Confine, in collaborazione con il coordinamento provinciale di Libera Napoli, L'Asso, Commercianti Ponticelli e il patrocino morale del Comune di Napoli. De Cicco, Benaglia, Guarracino e Dino Cera, quattro vittime innocenti di una strage, nefanda di Camorra, per prendere il controllo del territorio da parte del clan dei Sarno a Prea. Tantissimi gli alunni delle scuole del quartiere scesi in strada, persone comuni, commercianti, che denunciano lo stato d'abbandono della zona e la paura per i continui supprusi, per la mano della Camorra sempre pronta a stringere nella sua morsa l'intera comunità.